Con il 36,46% Fratelli d'Italia trionfa alle elezioni europee in provincia di Piacenza, risultando il primo partito in 45 comuni su 46. Il PD, che vince a Cerignale, raggiunge un buon 23,68% complessivo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, il piacentino Tommaso Foti, esulta per il risultato a Piacenza e a livello nazionale, premiato il buon lavoro dei nostri dirigenti e il governo di Giorgia Meloni. La parlamentare piacentina Paola De Micheli sottolinea il buon risultato del PD, definito l'unico baluardo contro l'avanzata della destra ed evidenzia l'elevato dato dell'astensionismo. Alle 14 inizia lo spoglio per le elezioni comunali in 28 comuni piacentini. Risultati, commenti e interviste in diretta su Tele Libertà, ma a Morfasso, Besenzone, Sarmato e San Pietro Incerro, i sindaci uscenti, candidati unici, sono già certi della rielezione. Volley, l'Under-13 della Gasseis Blue Energy Piacenza ha vinto il titolo regionale Under-13, superando il finale Modena. Tutte le altre notizie in tempo reale sul sito liberta.it